Vi sarà capitato d'estate di avere voglia di un tiramisù, ma col caldo non è proprio dolce ideale. Basterà sostituire il mascarpone col gelato ed ecco a voi l'espresso tiramisù. Facciamolo! Per prima cosa bisogna assicurarsi di utilizzare un bicchiere freddo. In questo caso io l'ho raffreddato già in freezer. E adesso prepariamo due espressi nella tazza da cappuccino. Il primo espresso è pronto. Chiudiamo il barattolo di caffè e adesso ci servirà il frullatore. Aggiungiamo due palline di gelato alla crema. Due savoiardi, li spezziamo. E adesso due espressi. Non metto zucchero perché è già abbastanza dolce. Ecco qua, è pronto. E per ultimo una spolverata di polvere di cacao. Sembra proprio un vero tiramisù. Non ce n'è più, però te ne faccio un altro. Solo per te. Vi sarà capitato d'estate.